Roma per sottoscrivere una convenzione con il Ministero del Lavoro per quello che riguarda il progetto presentato da padre Beniamino e dalla cooperativa che ha redatto l'idea e il progetto. Quindi c'è un piccolo intervento a favore dell'integrazione degli stranieri che sono extracomunitari e neocomunitari, nel nostro territorio c'è questo fenomeno particolarissimo, questi lavoratori praticamente vivono nella fascia trasformata, quindi c'è anche un problema di comunicazione con le città, con i servizi delle città. Quindi con quel poco che abbiamo, che ci viene trasferito a livello nazionale e regionale, facciamo anche noi come amministrazione comunale di Vittoria qualche risultato a favore dell'integrazione.